Ciao ragazzi siamo nel pieno della stagione stiva ormai e molti di voi scelgono proprio questo periodo per avvicinarsi all'escursionismo e per iniziare a praticare attività all'aria aperta sperando di lasciarvi qualche spunto utile oggi vi faccio vedere il setup che sto utilizzando quest'estate per i miei allenamenti e per le mie uscite in montagna giornaliere della durata di qualche ora è un setup estremamente compatto e leggero ma che nello stesso tempo contiene tutto il necessario per poter affrontare in sicurezza l'uscita vediamolo insieme la prima cosa a cui dobbiamo pensare quando facciamo uscite in luoghi isolati è la protezione dal freddo in montagna il tempo cambia rapidamente e le temperature possono scendere improvvisamente anche ad agosto per questo porto una giacca in piuma d'oca che fornisce un buon isolamento e nello stesso tempo pesa e ingombra pochissimo se mi inaccia pioggia eventualmente aggiungo un guscio impermeabile che andrò ad indossare per conto suo o se necessario addirittura sopra il piumino altro aspetto importantissimo in un'escursione è l'idratazione io porto un litro d'acqua suddiviso in queste due borracce da 500 millilitri tengo a precisare che questa è la quantità minima se necessario porto altra acqua in base alla durata e alla difficoltà dell'uscita per quanto riguarda il comparto cibo porto una busta di bivo che può essere sostituita o integrata con delle barrette, del gel, della frutta secca anche qui in base alla tipologia dell'uscita igiene personale qui c'è veramente poco da dire un pacchetto di fazzoletti piuttosto che una bustina di salviette umidificate magari prediligete quelle biodegradabili cercatele che ci sono comparto emergenza anche questo non dovrebbe mai mancare nello zaino di un escursionista si tratta di una serie di oggetti che possono tornare utili nel caso dio nei guardi finiamo nei guai e che possono aiutarci a gestire la situazione nell'attesa che arrivino i soccorsi abbiamo una coperta di emergenza un piccolo kit di primo soccorso che contiene tutto il necessario per poter disinfettare e fasciare tagli, abrasioni, piccole ferite che possono derivare da cadute accidentali abbiamo poi una torcia frontale con batterie di riserva un coltellino multiuso e un accendino due cose importanti riguardo la dotazione di emergenza ogni oggetto che la compone dovrebbe avere possibilmente più di una funzione all'interno devono esserci oggetti che ci permettano di segnalare facilmente la nostra presenza ai soccorritori in caso di emergenza dobbiamo farci notare e possiamo farlo sia con segnali visivi sia con segnali acustici vi faccio qualche esempio con la roba che ho qui la coperta di emergenza ad esempio serve per coprirsi ma dato che su un lato è arancione possiamo utilizzarla per farci notare anche a grande distanza senza contare che l'altro lato, quello riflettente può essere utilizzato appunto per riflettere la luce e per fare segnali se è notte questi segnali di luce posso farli con la torcia specialmente se possiede la modalità stroboscopica con l'accendino possiamo accendere un fuoco che può servire sia per scaldarci ma sia per farci notare infatti possiamo pensare di magari sacrificare un pezzo dell'attrezzatura bruciare della plastica per emettere del fumo nero che è visibile anche da grande distanza come ultima cosa vi faccio vedere lo zaino che ho scelto per contenere questi oggetti è di un bel rosso acceso questo vest da trail da 12 litri è un perfetto esempio di multifunzionalità è uno zaino ma essendo di questo colore è anche un segnale visivo immaginate una situazione, sempre Dione guardi nella quale mi capita un incidente e non posso più muovermi non posso fare nulla per segnalare la mia presenza sarò comunque visibile per il solo fatto di avere questo addosso notate che qui ho anche il fischietto quindi posso lanciare segnali acustici quindi ragazzi ricapitolando giacche per la protezione dal freddo idratazione quindi una quantità d'acqua sufficiente per affrontare l'uscita abbiamo poi il cibo quindi vivo più qualche barretta o gel igiene personale quindi fazzoletti e salviette dotazione di emergenza composta da kit di primo soccorso abbiamo la coperta di emergenza la torcia frontale il coltellino e l'accendino il tutto sta in questo vest da 12 litri per un peso complessivo che è di poco inferiore ai 3 kg quindi veramente molto molto leggero beh ragazzi per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto e spero come al solito di avervi dato qualche spunto utile per comporre la vostra attrezzatura ricordatevi di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale perché ho pronte un sacco di novità solo e soltanto per voi vi lascio in descrizione i link dei miei profili social andate a curiosare perché è tanta roba un saluto ragazzi state bene e ci vediamo ad un prossimo video